Sono con due guardie del corpo mie, sono con i gemelli diversi perché non li aveste conosciuti Suonavamo molti dei vostri pezzi, poi forse abbiamo anche la stessa età Io ho 21 Ok, quindi sei più giovane Ma tu hai la barba bianca non... 27 In vecchio male Allora, è la prima volta nella nostra bellissima Riva Ionica, nel bellissimo paese di Santa Teresa Come avete visto anche i ragazzi che governano il comune sono dei ragazzi quindi come noi E hanno fatto un bel lavoro Vi aspettano giù in piazza tantissime persone Ovviamente avete fatto tanti concerti nella vostra vita, però un po' di emozione? Allora, prima di essere su un palco devi avere leggermente un pizzico di emozione Perché è quella che ti fa fare uno show all'altezza Abbiamo fatto i complimenti al sindaco e ai consiglieri perché arrivando abbiamo osservato un po' la riviera E' bellissimo, quindi un posto bellissimo Quindi viva Santa Teresa di Riva Cosa, se si può dire, che pezzi fate? Allora, la mia storia tra le dita Alba Chiara No, sto scherzando, sto scherzando Faremo le nostre canzoni più famose Dalla prima di 21 anni fa all'ultima del 2016 Un escursus appunto tra tutte le nostre canzoni Non ti posso dire la scaletta perché non la diciamo mai Però sarà una sorpresa Grazie a Gemini Diversi e viva Santa Teresa Ah, sì, pensavo di ricevere un'altra cosa ma viva Santa Teresa di Riva Sempre viva la musica Ciao Ciao